Allora, siamo in ambulatorio dal dottor Alessandro Mascitelli, flebologo, che sta effettuando che cosa, dottore? Sto effettuando un esame ecocolordop per arterovenoso di una paziente mandato da un medico di famiglia per vedere un attimino quello che viene fuori, sia dal punto di vista dell'insufficienza delle arterie, che ricordo sono quelle che portano sangue ai tessuti, sia dal punto di vista di un'eventuale insufficienza venosa, le vene servono a portare via il sangue dai tessuti. Da che cosa è affetta la signora? Perciò è stata inviata qua dal medico di base. L'esame è iniziato ora, quindi è un pochino prematuro a dirlo. Quello che si può vedere intanto da queste immagini, non so se la telecamera riesce a riprenderlo, è innanzitutto, per quanto riguarda il sistema anterioso, la presenza di alcune placche di tipo aterosclerotico, sono placche di tipo calcifico, quindi diciamo compatibili, tra virgolette, con l'età della signora che non è più giovanissima. Ora guardiamo l'aspetto, l'aspetto dello spetto Doppler che ci dà altre indicazioni proprio sulla dinamica, sull'idraulica di questi vasi che però vedo grossi problemi, non ne hanno, non dà, diciamo che sono vasi un pochino incrostati ma non intasati, sono tubi rigidi che comunque la loro efficienza l'hanno, tutto sommato l'hanno sempre. Che cosa si può rilevare tramite un esame di ECO Doppler come sta facendo adesso? Per quanto riguarda il sistema arterioso, diciamo che è un esame che non dica soppiantato, esami un pochino più sofisticati ma più rischiosi e più invasivi, tipo l'arterografia. Diciamo che come esame di base attualmente è insostituibile perché ci dà un'esatta cognizione di quello che, ripeto, è l'idraulica di queste tubazioni. Ci fanno vedere esattamente quanto riescono a portare, quant'è la portata, le alterazioni di questa portata, se ci sono delle ostruzioni o delle alterazioni più o meno funzionali. Quindi insomma è un esame che oggi è consigliato. Ma ecco, diciamo anche un'altra cosa che poi tutto sommato oggi come oggi c'è anche un pochino un abuso di questi esami perché per quanto riguarda ad esempio il sistema arterioso basta mettere una mano e sentire i polsi arteriosi e se questi sono efficienti è un esame che può essere anche non fatto. Questo è un invito un attimino a medici di mettere le mani addosso ai pazienti. Quello sempre, conviene sempre. Le macchine fanno tanto ma noi medici dobbiamo senz'altro riprendere a rivisitare i malati. Ma qui a Livorno devo dire che i medici di famiglia sono molto in gamba. È rarissimo che io trovi un esame che tutto sommato poteva essere evitato. Sono molto molto attenti e molto scrupolosi. Questo è importante. Perciò diciamo nel caso allora in cui il medico di base denoti un problemino riguardante la circolazione, riguardante le vene eccetera, è consigliabile fare questo. Sempre fare il punto della situazione. Là dove c'è il sospetto di una patologia, il paziente sempre per quanto riguarda l'arterioso che ha difficoltà a camminare ma soprattutto dopo un po' che cammina, sopraggiungono dei dolori, dei crampi o delle difficoltà a camminare ecco lì bisogna insospettirci. Perché? Faccio un esempio stupido proprio per non diretti ai lavori ma in modo che possa capire l'utenza diciamo. I muscoli per muoversi hanno bisogno di energia, di benzina. La benzina è portata dai vasi arteriosi. Se questi sono struiti magari da fermo arriva comunque una certa quantità di sangue sufficiente. Quando uno cammina necessita di più energia, di più benzina tra virgolette, sopraggiunge il dolore e questo è un segno che deve allarmare il paziente quale deve parlare immediatamente col medico curante. Il medico curante dopo una visita relativa perché ripeto basta prendere dei polsi in mano e tutto e se sentano che c'è un'iniziale alterazione mandarlo dallo specialista o centro specializzato in modo che possa fare in modo da poter evitare poi anche un domani interventi chirurgici a poter prevenire. Non abbiamo a disposizione grossi mezzi ma qualcosa possiamo fare anche dal punto di vista farmacologico. Mi scusi se l'interrompo, il primo campanello d'allarme è il dolore? Cioè il dolore c'è da sempre una... È il dolore ma dopo uno sforzo, dopo una marcia perché il dolore a riposo invece in genere non è caratteristico a parte una fase terminale ma a quel punto ha una ulcera di tutto quindi... Ecco ma se questo dolore compare poi scompare con il camminare? È il sintomo tipico è che il paziente riferisce sempre mi sono fermato alcuni minuti, mi è diminuito e sono riuscito a riprendere la marcia, questo perché non serve più benzina, i muscoli sono fermi e quindi riprende. Sempre per consigliare le persone che ci seguono, invece se una persona nel camminare all'inizio avverte dolori, continua a camminare e il dolore scompare? Non può essere di origine arteriosa, ci sono molte altre cause, una causa con cui viene scambiata per esempio è una alterazione patologica della colonna lombosacrale, ad esempio una discopatia, uno schiacciamento vertebrale, sono sintomi che spesso si confondono. Ci sono altre patologie rarissime, alcune tipi di ernie, ma insomma lì si entra in genere... In altri campi, bene. Mentre continua, sì, io mi giro da quest'altra parte così... Vediamo ancora... Per quanto riguarda il sistema venoso, bisogna analizzare sempre, sempre anche se il medico curante la manda con la diagnosi di varici, sempre il circolo venoso superficiale e il circolo venoso profondo. Per le mie abitudini e la mia scuola, io inizio sempre dal circolo venoso profondo, in modo da vedere e togliere quello che potrebbe essere un dubbio per un'eventuale sospetta trombosi. Le trombosi si divino in flebotrombosi se colpiscono il sistema venoso profondo, in tromboflebiti se colpiscono il sistema venoso superficiale. Chiaramente quelle a maggior rischio tromboembolico, quindi a rischio di eventi drammatici, a rischio di vita, sono le trombosi venose profonde, anche se non vanno sottovalutate quelle superficiali, perché attraverso dei vasi comunicanti o perforanti possono arrivare al profondo e sia pur raramente embolizzare anche esse, soprattutto se trattano, se diciamo sono riferibili all'asse safenico interno e soprattutto se sono molto prossimali, cioè se arrivano alla parte alta di coscia. Ora sto valutando il sistema venoso profondo, questa è l'arteria femorale, comune, l'arteria scusate, la vena femorale comune. Ora invito la paziente a fare uno sforzo simile a quando uno va di intestino. Mi spinga un pochino con la pancia signora, spinga, spinga forte, bravissima, chiude perfettamente, quindi le valvole funzionano. Respiri pure, riprenda e ora riprende la funzione normale, cioè il sistema valvolare, chiude perfettamente, la vena è comprimibile e quindi non può essere affetta né da fenomeni trombotici né da fenomeni di insufficienza valvolare. Diciamo che tutto sommato la situazione della signora è varia, sto analizzando il circolo in un suo profondo sempre. La invito di nuovo a fare uno sforzo, signora, spinga, spinga forte. Bravissima, ecco la differenza invece di questa rispetto all'altra. C'è un modesto reflusso, quindi vuol dire che le valvole non chiudono perfettamente, si tratta di un reflusso di modica entità, non supera i tre secondi, quindi non è francamente patologico, però è una vena che inizia a essere in leggera sofferenza. Il fatto che siano comprimibili poi comunque mi dà subito praticamente la sicurezza di non avere fenomeni trombotici in atto. Ora sto comprimendo la vena poplitea, che è questa figurina qui, che si vedono abbastanza bene, spero la telecamera riprenda le pareti che si uniscano, quindi il fatto di essere comprimibile non può avere all'interno il trombo. Questa è un'altra bella immagine, abbiamo la piccola safena che è leggermente dilatata, io sto scendendo con la mia sonda in basso per farvela vedere, è il punto in cui si butta nella vena poplitea, anche qui è un punto chiave che va sempre valutato dal punto di vista emodinamico o idraulico per capirsi. C'è passaggio, io faccio una piccola compressione di polpaccio e come vedete c'è un'inversione di flusso modesta, quindi anche qui c'è una piccolissima insufficienza della cosiddetta cross tra la piccola safena e la poplitea, ma di scarsa portanza, perché è vero che è abbastanza profonda, ma dura poco nel tempo, quindi c'è una certa quantità che va alla rovescia, ma c'è un recupero in pratico, e questo lo fotografiamo. Quindi questa signora, dopo questo esame, possiamo dire che ha delle arterie che sono, ripeto, un pochino incrostate, ma non intasate, che è una cosa molto diversa. Sono tubi un po' più rigidi, ma che fanno comunque il loro lavoro. E per quanto riguarda invece le vene, c'è un'iniziale insufficienza venosa di tipo superficiale, non di pertinenza chirurgica. La cosa che consiglio alla signora è di iniziare a convivere con una calzina elastica anche di tipo preventivo da 12 mm di mercurio, in modo da schiacciare questi vasettini che perdano, e volendo, per fare un lavoro un pochino più complesso, quelli che perdono un pochino di più, quelli a maggior calibro, possiamo sclerotizzarle. La sclerosante è una tecnica del tutto innocua e sicura, in cui facciamo delle iniezioni assolutamente indolori all'interno di questa varice, in modo tale da poter riempirla di cellule. Quindi un tubo pieno non perde più. Adesso lasciamo la signora con il merito, la ringraziamo anche noi, e confermiamo che l'indagine non è stata dolorosa, vero? No, no, no. È stata tranquillissima. E niente. Bene, perciò adesso il dottor Mascitelli ovviamente le prescriverà quello che dovrà fare. Noi la ringraziamo per il suo aiuto. La signora? Prego. Giannone Luciana. Grazie signora Luciana. La lasciamo un attimino alla sua privacy. E noi... Bene, abbiamo salutato la signora Luciana, gentilissima. Io per far presto non mi ero neanche tolta la giacchetta, avevo caldissimo mentre facevi l'eco-dopple. Dopo con le macchine accese qui è sempre caldo, fra doppler e computer. Certamente. Dunque però, abbiamo parlato di trombo flebiti, di traumi da trombo. Ecco, volevo dare un pochino un consiglio, cioè ovviamente il nostro dottor Mascitelli darà un consiglio per questi casi, perché spesso magari una persona inciampa, una gamba, una caviglia, si fa del male, però insomma non è un male eclatante e magari trascura una cosa che può diventare qualcosa di più pericoloso. Cosa può succedere? Questo è vero. Ora non è che voglia fare del terrorismo perché... No, solamente un buon consigliere. Però il discorso è questo. Purtroppo in Italia e anche in altri paesi occidentali, tipo la Francia, l'Inghilterra, gli Stati Uniti. Purtroppo la terza causa di morte è la tromboembolia polmonare. E questo deve farci ragionare in diverse maniere. La terza causa di morte è la tromboembolia polmonare e bisogna fare qualcosa di più di prevenzione perché la possiamo fare. E il trombo non è che si forma in una vena a caso, in una vena sana, a parte alcune eccezioni che poi vi spiegherò. Il trombo si forma sempre, nella stragrande maggioranza dei casi, là dove c'è una sindrome varicosa. Quindi il trattamento delle varici in fase iniziale è la cosa fondamentale. Spesso mi vengono pazienti e la frase tipica dice sì, dottore, io ho le varici, però non mi danno nessuna noia. È lì il punto. Perché purtroppo le varici danno noia con le loro complicanze, quando è troppo tardi per curarle. E' anche subdolo e asintomatico. Certo. Io faccio questo esempio un po' come i tumori. Se i tumori ci dessero dei segni iniziali, probabilmente moriremo più nessuno di tumore. In realtà le danno quando sono ormai a uno stadio avanzato, se non addirittura terminale, e le varici uguali. E cioè, il concetto della varice è che la varice è un tubo in cui il sangue avvenoso va alla rovescia di come deve andare. Quindi c'è sempre un periodo in cui le vene sane, facendo doppio lavoro, tra virgolette, portano via il loro sangue più quello che torna indietro dalle varici. E questo è il periodo in cui bisognerebbe trattare. Il periodo in cui il paziente è asintomatico. Perché in caso di urto, o in altri... Ma urto è nemmeno tanto violento. Non è che occorre un trauma fratturativo. E soprattutto in stagione estiva, in stagione calda, e tutto può trombizzare. E la trombosi può andare bene una, due, tre, quattro volte. La quinta è difficile che vada bene. Se ne stacca un pezzettino, ostruisce un'arteria polmonare, che però è un sangue di circolazione piccola, quindi è sempre un sangue venoso, tra virgolette, anche se si chiama arteria, e dà una tromboembolia polmonare. Quindi non mi stanco mai di dire prevenzione delle varici con suo trattamento prima che addirittura siano sintomatiche. Allora, senz'altro... Scusa se ti interrompo. Senz'altro in caso di trauma, ecodoppler, come abbiamo visto oggi. Beh, questo è un po' troppo. Se no, al primo traumatismo, io avrei l'ambulatorio talmente pieno che non potrei... Allora, in caso di trauma, in caso di un paziente con un'importante sindrome varicosa, è bene, innanzitutto, farsi vedere dal medico di famiglia che è perfettamente in grado di decidere se è il caso di mandarlo dallo specialista o no. Chiaramente, se uno ha già avuto un precedente trombotico, è lì che mi batto, anche se, per esempio, o ha una forte familiarità trombotica, la mamma, il babbo, che hanno avuto un episodio trombotico, è bene sicuramente approfondire il discorso. Ma come si vede che una varice è sofferente? Varice sofferente è una domanda che non riesco a capire. Sofferente in che senso? In che senso? Dunque, tu hai detto è bene controllare quando c'è un problema di varici perché magari le persone dicono ho le varici, però non mi fa male. Però cosa vuol dire ho le varici? Si vede che ci sono le varici gonfi? Certo, le varici le vediamo sempre perché sono delle estroflessioni del vaso venoso, un vaso noso superficiale, quindi uno le vede benissimo. Il caso delle donne è già diverso perché tenendoci all'estetica in genere vengono sempre prima che sia tardi, anche perché ci tengono giustamente alla loro figura. È l'uomo che si trascura un po' di più, dice io non mi interessa il discorso estetico e quindi si sottopone a varie problematiche. Ma una cosa che ci tenevo a dire per completare il discorso è questo, è che a volte vi sono delle trombosi cosiddette invenesane e allora lì bisogna stabilire perché ci sono due possibilità. O uno ha un'alterazione della trombofilia e apro una parentesi velocissima il nostro sangue è in equilibrio tra coagulare se no al primo taglio moriremo di emorragia ma non coagulare troppo dico parole stupide ma di modo che la gente mi capisca perché se no andrei incontro a trombosi. Ecco, questo equilibrio in alcuni soggetti è spostato in senso trombofilico. Oggi fortunatamente esistono degli esami da poter fare esami semplici, esami di sangue in cui è possibile anche lì vedere e quando è che vanno fatti. nei soggetti che dice io al babbo ho avuto una trombosi la mamma a quel punto indaghiamo andiamo fino in fondo e vediamo come coagula il soggetto. Altri casi di trombosi in vene sane sono problemi di gravità estrema tipo un tumore in fase terminale malattie croniche in fase terminale ma lì è un altro problema e sono casi sporadici. La trombosi viene in coloro che hanno varici. Punto. E questo esame è abbastanza facile da fare? Cos'è un prelievo di sangue? quello che dicevi prima? Sì, anche lì sono esami costosi non è che vanno fatti a tappeto alla popolazione perché sono esami veramente costosi e veramente indaginosi. Però c'è una familiarità un esame che può diventare di routine di sempre indeterminati soggetti a rischio per valutare appunto questa coagulazione del sangue. Benissimo. Dottor Mascitelli io la ringrazio è stato molto esauriente come sempre molto chiaro per gli amici che ci seguono da casa ritorneremo sull'argomento magari per altri casi però la cosa più importante da dire quando ci sono o vene gonfie o traumi prima cosa rivolgetevi al medico curante e poi eventualmente ci sono ovviamente questi macchinari e i medici flebologi che possono aiutarvi. Grazie e al prossimo Tg. Arrivederci.